Lo scorso gennaio col presidente dell'UPA, l'associazione delle imprese che investono in pubblicità, Lorenzo Sassoli De Bianchi, avevamo fatto una lunga intervista nella quale aveva anticipato ai microfoni di ADV Express TV una imminente ricerca sulla RAI condotta con l'Istituto Asta. Una ricerca che avrebbe in qualche modo definito una proposta da parte dell'UPA nei confronti dell'emittente pubblica che è anche la più grande industria culturale del paese. Vediamo le premesse adesso che è il giorno dello showdown, dello svelamento delle carte, quali sono appunto le premesse, qual è in concreto la risposta e quali obiettivi ha. Questo paese ha un grande bisogno di modernizzarsi nelle sue componenti private e nelle sue componenti pubbliche. è evidente che la più importante industria culturale italiana, la RAI, deve anch'essa affrontare un processo di rinnovamento e di modernizzazione. Quindi abbiamo cercato di lavorare con metodo. Prima abbiamo cercato di capire, di fare una diagnosi attraverso una ricerca approfondita su quello che può essere il futuro della RAI e poi abbiamo da questa ricerca tratto delle indicazioni per quello che riguarda una riforma che secondo noi è urgente, improcrastinabile e assolutamente necessaria proprio per accompagnare il paese nella modernità, diciamo, anche in un momento in cui il sistema della comunicazione sta cambiando così rapidamente. Premesso questo, la RAI dalla ricerca emerge come una nave incagliata in una foresta di interessi pietrificati, lottizzazione politica sulle poltrone e poltroncine, ingovernabilità, scadimento della gestione, incapacità di organizzarsi e soprattutto un'eccessiva attenzione alla quantità rispetto degli spettatori, rispetto alla qualità della programmazione. E quindi la RAI sta venendo meno a quella che è la propria missione di elemento, di catalizzatore della cultura del paese, che è stata quella storica. Insomma, l'Italia è cresciuta nel dopoguerra anche grazie alla funzione del servizio pubblico inteso in senso stretto dalla RAI. E quindi facciamo una serie di proposte. Una serie di proposte che vanno dallo sganciamento e dall'allontanamento il più possibile dalla ingerenza politica sulla gestione, proponendo di conferire la RAI ad una fondazione. Fondazione che sia rappresentativa di diverse realtà del paese, che possono andare dai presidenti della Camera e del Senato, alle associazioni di consumatori, alle regioni, ai comuni, alle categorie economiche, gli artigiani, commercianti, industriali, al CNEL, all'università. Quindi una fondazione in cui ci sono due livelli di governance. Il primo, quello di indirizzo, controllo e nomina di chi deve poi effettivamente gestire l'operatività. Chiamato consiglio di indirizzo e nominato da quei soggetti, da quegli enti che dicevo prima. Un, invece, consiglio di amministrazione di un numero ristretto di persone, 5-7 persone, con un amministratore delegato, deputato alla gestione. L'obbligo di pareggio di bilancio e l'obbligo di recepire quello che oggi è chiamato il contratto di servizio della RAI, cioè la definizione esatta di quello che significa un ente pubblico, un servizio pubblico. Ecco, questo è lo schema. Scusi, nel CDA ci sarebbe la presenza della politica o no? No, perché a questo punto, ma neanche perché gli enti nominanti saranno in parte politici, noi non è che vogliamo eliminare l'influenza politica o di chi governa sulla gestione di un bene pubblico, ma riteniamo che debba essere ricondotta ad un alveo ragionevole. Infine, per quello che riguarda la gestione e il canone, noi riteniamo che per giustificare il canone sia opportuno avere una rete generalista senza pubblicità. Avete già pensato a quale delle tre? No, questo secondo noi andrà valutato poi nel momento in cui si farà la riforma. Comunque deve essere una delle tre reti generaliste. Ricordiamo che oggi la RAI ha 13 reti e sicuramente molte di queste prenderanno forza nel tempo, perché il sistema si sta articolando sempre di più. Quindi, in buona sostanza, fondazione, recupero dell'evasione del canone attraverso meccanismi che di fatto obblighino al pagamento del canone, perché così è in tutta Europa. Tenete conto che in Germania paga il canone anche chi non ha la televisione in casa, perché oggi si può fruire dei programmi televisivi anche attraverso altri mezzi. Oltretutto in Germania il canone costa il doppio di quello che costa in Italia. Una rete orientata alla qualità e quindi sganciata dall'ossessione dell'audience che permetta finalmente di tornare a fare quello che faceva la RAI di un tempo, cioè sperimentazione in termini di nuovi format, lancio di giovani. Noi vogliamo che nascano i nuovi Vespa, i nuovi Baudo. Tutto questo può avvenire solo se non si sgancia almeno una parte della RAI dall'ossessione dell'audience sotto cui vive attualmente. Ecco, nella sua proposta si potrebbe ravvisare una sorta di contraddizione, per così dire. Nel senso, lei è il presidente dell'associazione delle imprese che investono in pubblicità e sta proponendo di fatto di togliere della pubblicità a una delle reti. Per voi non è un danno dal vostro punto di vista, cioè quello di rinunciare a un canale di comunicazione per l'informazione pubblicitaria? È una domanda molto giusta. Noi riteniamo che il danno maggiore per le nostre imprese, per noi e per le nostre imprese, sia quello di vedere una RAI decaduta. Siamo pronti a sacrificare una opportunità di investimento che c'è data da una rete televisiva generalista pur di vedere una rinascita della RAI. Quindi è un discorso di opportunità generale e, come dicevo all'inizio, di responsabilità verso un Paese che deve crescere, che deve modernizzarsi e che per modernizzarsi ha bisogno anche di avere un forte contributo da parte della sua maggiore impresa culturale. Grazie.